Importante messaggio di Gesù a Jennifer Non date a Satan la vostra anima Tempo del mio ritorno vicino Questo messaggio sembra enfatizzare l'importanza dell'obbedienza alla volontà del Padre e l'atto d'amore che essa rappresenta. Invita anche a non cedere all'inganno e alla tentazione, ma a rimanere fedeli a Dio, ricordando che Lui è il contenitore di cui abbiamo bisogno per proteggerci e nutrirci spiritualmente. Il passaggio che menziona il disfacimento e l'agitazione dell'anima potrebbe essere interpretato come un richiamo a essere consapevoli delle sfide e delle prove che possono emergere nelle nostre vite, ma allo stesso tempo a trovare la pace nella misericordia e nella giustizia di Dio. Leggiamo il messaggio Figlia mia, l'obbedienza è un grande atto d'amore. Quando un'anima cerca di arrendersi alla volontà del Padre mio è un grande atto d'amore. Ogni giorno, ogni ora che passa, l'umanità attraversa un altro corridoio della storia. Questo è un tempo di apprendimento, figli miei. Non vi abbandonate ai peccati di coloro la cui avidità e il cui amore per l'autorità privano il mio popolo del suo libero arbitrio. Figli miei, non aprireste la porta a un ladro che vuole rubare i vostri beni. Allora vi dico, non date al grande ladro un'apertura alla vostra anima, perché egli si attarda sempre fuori dalla porta. Io sono l'unico contenitore di cui avete bisogno. Sono il contenitore che vi protegge e vi nutre nell'anima e nel corpo. Sono l'unico corridoio tra il cielo e la terra. Sono il pane della vita, perché sono Gesù. Quando iniziate a vedere la mia chiesa priva di un pastore e vi sentite come se avessi abbandonato le mie pecore, sappiate che questo è un tempo di purificazione per ripulire le mura dal male che vi si è infiltrato. Così come un cavallo senza cavaliere sembra non avere freni, questo è un grande segno che il tempo della mia visita è vicino. Non temete, non arrendetevi. Venite, figli miei, venite dalla mia misericordia. Venite a me nell'Eucaristia. Venite a me nell'adorazione. Il disfacimento è iniziato e l'agitazione nella vostra anima è dovuta al fatto che state assistendo alle menzogne dell'ingannatore. Non date a Satana la custodia della vostra anima arrendendovi a coloro che non rappresentano la verità. Ora andate avanti perché io sono Gesù e siate in pace perché la mia misericordia e la mia giustizia prevarranno. Grazie. 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 Grazie.